Un saluto dal TG della mobilità. Dal primo di settembre chi ha diritto al bonus trasporti finanziato dal governo potrà acquistare il proprio abbonamento mensile o annuale sul sito di ATAC. Il bonus trasporti è nominativo, ha un valore massimo di 60 euro e può essere richiesto da chi lo scorso anno ha avuto un reddito complessivo non superiore ai 35.000 euro. Prima di acquistare l'abbonamento bisogna richiedere il bonus trasporti sul sito dedicato realizzato dal Ministero del Lavoro. Le domande si possono fare solo online.